Ok, allora nome e cognome e cosa ti aspetti da questo viaggio? Allora, ciao, sono Romina Canti. Cosa mi aspetto di questo viaggio? Sinceramente mi aspetto un bagaglio da portare a casa. Com'è andato il casting? Il casting è andato meravigliosamente benissimo. Mi è piaciuto tutto. C'è stata la collaborazione, tante emozioni, però sono soddisfatta del mio lavoro che ho fatto. Perché nella semplicità, scusami tanto ma sono un po' emozionata, scusami. Sinceramente... Sei soddisfatta di questa esperienza? Sì, sì, sono soddisfatta. Sì, soddisfattissima. Cosa ti porti a casa di nuovo? Sicuramente una valigia piena di cose. E in più tanta esperienza, cioè qui vedere lo staff con tanta esperienza, tante innovazioni e tante cose. Quindi una bella valigia piena di ricordi, di emozioni e tutto. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao.